Senza San infortunato e Spizzichini squalificato, la Delfes del nuovo corso Giovanni Benedetto va capo al pala del Mauro contro la Virtus Arecchi Salerno di coach di Lorenzo. D'Andrea, Basile, Marra, Cepic e Denze, i cinque scelti dal tecnico calabrese. Coltro apre subito il fuoco da tre, D'Andrea risponde per i lupi. Rinaldi e Mennella al quarto danno già il primo strappo al match con 9-0 di parziale che costringe sul 2-11 al time-out Benedetto. Marra e D'Andrea ancora a referto, ma coltro è un fattore per i Blaugrana, la tripla di Basile chiude sul 13-20 i primi 10 minuti. Valentini a referto, Salerno scappa a 12 punti di vantaggio grazie a Rajatic, 12-25 al minuto 12. La Delfes spara a salve, 4 minuti senza canestro per i lupi. Akbogan dalla lunetta spezza il digiuno dopo il time-out di coach Benedetto. Tripla di Basile, Avellino a meno 8, 19-27 al minuto 16. Boggia al del Mauro, altra tripla di Akbogan, Avellino si perde però come ci ha già abituato sul più bello e Marini e Coltro firmano un bel parziale di 6-0 che ricaccia via i lupi della palla canestro. Buon accorso, sigla il 27-44 del primo tempo. Subito canestro e fallo subito da Rinaldi, 5-0 Avellino sull'asse di Andrea Akbogan. Salerno tiene botta e amministra il largo vantaggio grazie al contributo prezioso di Buon accorso e Mennella, 40-54 al 26esimo. Venga, timbre al meno 10, Di Lorenzo vuol pallarci su, la Delfes è spinta da Del Mauro, chiude al trentesimo sotto 44-55. Nell'ultimo quarto le squadre attaccano il ferro con un ritmo importante, Avellino si avvicina alla Virtus con Marra e D'Andrea. Valentini dopo un momento di appannaggio della Virtus mette al referto il 48-60 del minuto 33. D'Andrea in serata, rimbalzo offensivo e 5-0 di parziale Delfes. Lupi a meno 8, 61-53 alla trentasettesimo. Rinaldi perde le staffe, tecnico per lui, il Del Mauro si galvanizza, D'Andrea porta addirittura a meno 4 la Delfes che però non riesce a completare alla fine la rimonta. Salerno nell'ultimo minuto è impeccabile della lunetta e vince 65-75.